Li abbiamo disturbati Per vedere che anche quelli Per vedere che anche quelli vengono L'uomo era una sbagliata Hanno preso il fiume di là Vedi stanno attraversando adesso No, no, no Voglio vedere dove è passato No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no, no No, 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 no No, 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 no Mamma mia No, 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 no No, 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 no Questa è la vomgaz? Pazzesco, pazzesco, guarda che roba No, 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 no No, 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 no Però, però non c'è la spada Non c'è più niente Sì, qua, no, 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 Vedi? No, no, ma tu stai qui, vado di un attimo, faccio una cosa veloce, ti do la lice trasmittente così siamo in comunicazione. Io penso spezzare bene. Lo zaino. Non lo lascio, ti vado a dare un'occhiata. Sì, ma come vuoi. Poi ti devo lasciare. No, no, ma tu. No, ma tu. No, ma tu. Ok, tutto funziona? Si Andrea, sono salito Ti vedo, sono collegato Bravissimo Ok, adesso proseguo con con l'esplorazione Adesso cerco di farti un video dall'esterno quando esci in coperta Ok, adesso provo ad entrare un attimo qui Mamma mia che rumore ragazzi È pieno di acqua lì sotto Mamma mia È il telefono Guardate quanti colori Fai bravo, non ti faccio niente Questo è il telefono Questo è il telefono Infatti è pieno di cacca di me Di uccello Ok, ragazzi Vado da guardia La falsa Alla prossima Ok, ragazzi Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti. Grazie a tutti. Anche all'interno potessi sentire se mi chiamavi eccetera. Ok, buon proseguo. Sto entrando. Sono entrati in una sala. Ogni tanto dammi uno squillo per farmi sentire che è tutto a posto. Ok, passo. Andrea mi senti? Sono entrato dentro una sauna. Sì, ti sento, ti sento, ho capito che si trova dentro una sauna, è normale che faccio un caldo bar, maledetto. Quindi, mi raccomando, ogni tanto fatti sentire, passo. Guarda che non sto scherzando, è una sauna vera e propria con le pietre, sai, per fare il calore. Le saune. Scusa, come al solito non ho capito nulla, va bene. Beh, mi raccomando, cerca solo di fartela bella. Magari dopo ti butti nell'acqua fredda. Passo e chiudo. Chiudo e passo. Ok, andiamo avanti. Il posto è veramente maga però, mamma mia. Guardate in che condizioni è. Capazzo. Questo qui è il motore, ragazzi. Anzi, sotto è impossibile andare qui. Ok. Mamma mia, ragazzi, è da film horror qua dentro. Guardate in che condizioni. Qui il tempo si è fermato, ragazzi. Dieci anni. La nave della rossa è trovata a una cinquantina di metri dopo. Andrea, sono entrati in cucina. Passo. Fai tu uno spagli, va? Due spagli, agli olio e peperuccino, mi raccomando. Che! 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 Passaggio proibito, non vedete i frigoriferi diretti, i cassetti. E poi andiamo subito, qui stiamo subito, non vedete i ragazzi, non vedete i ragazzi. Madonna mia, sembra un figlio di fantascienza ragazzi. Madonna mia, tutto abbandonato, tranquillo non ti faccio niente. Questa è una cucina. E il ricotto va a valere. Ok. Tranquillo. Tranquillo. Si è andato a infilare lì dentro. Porca vacca. Il mio risalire è pieno di cacca di uccelli. Perfetto. 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 Grazie. Le stanzette così, dove dormivano, e c'avevano un piccolo lavandino. Ok, più o meno sono tutte queste le stanze. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.